E siamo arrivati al momento del nostro partner Wine Go Shop, l'eccellenza dei sapori a portata di click. Facciamo entrare in studio la sommelier Sara Cappanna, ben trovata Sara. Ciao Serena, ciao a tutti gli amici di The Counter. Allora è il momento di Wine Go Shop, io direi di ricordare subito ai nostri followers il numero del loro personal sommelier 380 1875 585, dove poter chiamare per tutti i consigli sul vino. Allora Sara, con te invece per tutto il mese di ottobre abbiamo parlato della promozione di cantine fina, quindi una cantina siciliana, oggi invece torniamo sul continente, giusto? Esatto, è terminata la promozione, ma non terminano le offerte sul sito di Wine Go Shop. Siamo nel cuore della Maremma Toscana con le gessaie di Le Sode di Sant'Angelo. Si tratta di un vino bianco che viene prodotto in questa tenuta che si estende per 40 ettari nel cuore della Maremma Toscana, come dicevamo. Il vino è in promozione al 20%, con il 20% di sconto su Wine Go Shop. È un vino bianco con gradazione alcolica di 13 gradi e mezzo, fa una vinificazione in tini di acciaio inox a temperatura controllata e a seguire un lungo affinamento surlì. È di colore giallo paglierino con riflessi dorati, al naso risulta elegante, con sentori sia di pesca gialla leggermente acerba, ma anche di frutta esotica matura. E poi ci sono dei richiami di rosmarino e sabbia mediterranea. In bocca è intenso e avvolgente, con un finale fresco e sapido e una lunga persistenza anche. Come lo vogliamo abbinare? Come lo vogliamo abbinare? Cara Sara, perché noi questo vino lo conosciamo molto bene, perché te non sei venuta, ma noi siamo andati anche proprio in azienda alle sode di Sant'Angelo. Chiamo proprio un terreno particolare per questo fermentino, appunto con degli affioramenti proprio di gesso che noi abbiamo visto in cantina. Adesso dobbiamo tornare insieme. Devo rimediare assolutamente. Esatto, esatto. Allora, con che lo abbiniamo questo vino? Innanzitutto va benissimo come aperitivo, può essere abbinato con tutti i piatti a base di pesce, ma anche con formaggi di media stagionatura e sfamini. Temperatura di servizio? Lo dimenticavo, 10-12 gradi. Ok, per i sommelier. Poi la temperatura giusta a volte insomma esalta proprio anche i sentori del vino sia al naso che in bocca. È un'azienda insomma storica per Wine Workshop. All'interno del blog c'è anche una nuova rubrica, senti chi parla, dove c'è il sotto la quercia, sempre dell'azienda Le Storie di Sant'Angelo, che si racconta che è un merlot in purezza. Bene Sara, allora grazie del tuo intervento e noi come sempre ci vediamo giovedì prossimo. Grazie a te Serena, a presto.